Il meglio di noi è ciò che ognuno di noi ha. Che cos'è la parte migliore di noi? Alcuni dicono è il coraggio, altri dicono è la generosità, altri dicono la resistenza. Il nostro film documentario vuole proprio indagare sulla capacità di resistere. Quando? Quando per esempio la vita ti pone davanti qualche cosa di particolarmente doloroso, di difficile, una malattia grave, la perdita di una persona cara. Ecco, l'essere umano può trovare al proprio interno la forza per superare, trasformare la tragedia o il dolore in una qualità. Parla di storie, di storie vissute, di storie che possono insegnare a noi come sopravvivere a dei dolori importanti che purtroppo a volte nella vita possono succedere. E credo che la visione di questo film, di questo docufilm, possa insegnare veramente, possa dare tante emozioni che veramente possano regalare un pochino di, come dire, di speranza, forse di possibilità per superare dolori a volte drammatici come possono essere quelli descritti da qualcuno di questo docufilm. E ha capito, guardare comunque senza pretendere di vedere è qualcosa di più importante del fatto di vedere. Io credo che nelle esperienze passate, di esperienze passate, le ho vissute tante di queste storie. Non mi sono mai abituato al cinismo, cioè credo che ogni storia abbia sempre toccato e per fortuna quello che è importante, ho sempre vissuto poi, sono sempre riuscito a vivere il bello di quella storia, qualcosa che mi hanno sempre lasciato e mi hanno sempre dato speranza e più voglia di vivere.